Si parte con l'intitolazione di alcune vie cittadine a personaggi femminili di altro spessore storico e culturale, poi proiezioni di film a tema nei centri di aggregazione, convegni e presentazioni di libri. Sono moltissime le iniziative in programma questa settimana in occasione della Giornata Internazionale delle Donne. Tra le strade ricadenti nella quinta circoscrizione che saranno dedicata a Elsa Morante, scrittrice e poetessa tra le più sensibili e note nel secondo dopoguerra, a Laura Gonzenbach, scrittrice ed etnologa che ha raccontato il mondo della Sicilia umile e Antonina Cascio, combattente e patriota messinese del Risorgimento. Un tributo simbolico che l'amministrazione comunale ha inteso riconoscere al ruolo femminile nella società che attraverso l'impegno delle tre personalità ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia del nostro paese. Poi sabato un convegno sul tema allattamento tra libertà individuale e scelta consapevole di salute organizzato dall'assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità e dalle associazioni mamme di Peter Pan e da mamma a mamma. Un focus sul tema dell'allattamento materno analizzato nelle diverse ottiche femminili partendo dal diritto fondamentale di salute sia per la mamma che per il bambino. Nei centri di aggregazione giovanile comunali invece Cineforum al femminile con l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi verso una cultura priva di discriminazioni di genere. Oggi poi alla Galleria Vittorio Emanuele protagonisti Polizia di Stato e CEDAV.